E' velenato, 60 anni di veleni dalla città dei pesticidi e che cosa vogliono fare adesso? Qualcuno ha deciso, ha deciso il nostro futuro, quale futuro è il nostro? Ci hanno messo la lettera della scarlatta, la lettera filella, il salenzio alla peste e va quindi sterminato tutte le mani, di che cosa stiamo parlando? Se noi chiediamo a tutti i contadini che lavorano veramente la terra, sanno di che cosa stanno parlando, di che malattie soffre l'ulivo? Se l'ulivo è arrivato da Seneca oggi, c'è un significato, quello squarcio della tronco, che cosa sta a significare quello squarcio? Che la malattia dove è avvenuta è stata tolta? Ci hanno insegnato i nostri vati questi che è l'ulivo, è proprio l'ulivo, è proprio la pianta che resiste a tutto, a tutto resiste E tu vada all'alto e mi dici c'è la peste e mi tagli questi vini, entri a casa mia e mi tagli gli ulini, a casa mia Dov'è la democrazia? Dov'è? Non ce n'è più, è finita la democrazia Sono tutti democraziani